Musica Conferenza stampa questa mattina del presidente della provincia Eugenio Dorsi che ha presentato novità sul fronte dell'inizio dei lavori di rifacimento della rete idrica da Grigianto in altri comuni della provincia. Numerose strade della città verranno rifatte con il finanziamento di 6 milioni di euro che in origine era stato destinato al raddoppio della via Empedocle. Per il sesto giorno consecutivo la spazzatura è rimasta in strada nei comuni del lato Gesa, anche oggi gli operatori ecologici sono rimasti con le braccia incrociate. Ritornano la prosa e Luigi Pirandello al teatro di Grigianto. Da ieri fino a domani, questa sera si recita il soggetto. Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini questa mattina hanno incontrato un gruppo di studenti della città. Bentrovati gentili telespettatori al telegiornale di Grigianto TV. Iniziamo subito con la conferenza stampa che questa mattina ha tenuto il presidente della provincia regionale di Grigianto, Eugenio Dorsi, che ha presentato novità sul fronte dell'inizio dei lavori del rifacimento della rete idrica da Grigianto in altri comuni della provincia. È andato per noi tutto frequente. Presidente, novità sul fronte rifacimento e razionalizzazione del sistema idrico integrato in 16 comuni della provincia di Grigianto? In un momento di grande difficoltà psicologica del presidente Lombardo per le note vicente, ieri mi soggiunge una sua telefonata per riavvisarmi che l'Aggiunta aveva approvato questa importante possibilità della provincia di Grigianto, e cioè l'approvazione dei progetti della rete idrica in ben 16 comuni della Grigianto, che era una spesa di 64 milioni di euro, più quella che è uguale al 30% della ditta privata. Per cui significa che il risultato che abbiamo portato, grazie al lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione del lato idrico, e soprattutto dai tecnici, dagli ingegneri che già nel febbraio del 2009, si erano adoperati per portare a termine questo obiettivo, che cancellerebbe 50 anni di difficoltà che la gente della provincia ha subito per la mancanza di erogazione dell'acqua. Quando si parla di sistema idrico integrato parliamo anche di fognature, di depurazione, tutto il resto si avvicina alla stagione estiva e tanti abitanti di San Leone, per esempio lamentano, però sono preoccupati per quello che si possa ripetersi come ogni anno, c'è quel mare inquinato lato idrico, su questo fronte cosa ci può dire, cosa si sta muovendo, si sta facendo qualcosa o no? Ci sono pure in gioco altri milioni di euro proprio per i depuratori. Agrigento sta risolvendo la questione che la vede in contrapposizione al villaggio Peruzzo. Noi abbiamo fatto in modo che venisse anche questa opera progettata, sappiamo che ci saranno circa 90 milioni di euro, e anche lì crediamo che Lompardo riuscirà a svincolarci queste somme. E' chiaro che stiamo intervenendo ed è chiaro che il problema di San Leone, che se ne parla così come quanto inizia la saga del Manto dell'Enviore, se ne parla a febbraio, d'estate incominciamo a parlare di depuratore delle acque che vengono inquinate. Se si pensasse sempre prima forse faremmo un servizio all'utenza e faremmo meno chiacchiere noi politici che di chiacchiere, ne siamo laureati e addirittura ci potremmo chiamare magnifici rettori della politica. E rimaniamo in tema di interventi per la città. Numerose strade di Agrigento verranno rifatte con il finanziamento di 6 milioni di euro che in origine era stato destinato al raddoppio della via Empedocle. Vediamo quali sono queste strade. Saranno diverse le strade cittadine che verranno sistemate con i 6 milioni di euro che il Cipe nel 2009 finanziò per il raddoppio della via Empedocle. Il progetto che venne rielaborato dal provveditorato alle opere pubbliche insieme al Comune non passò l'esame della soffrinendenza e beni culturali per cui, piuttosto che perdere il finanziamento, il Comune ha chiesto e ottenuto dal Cipe che quelle risorse potessero essere destinate al rifacimento di gran parte delle strade cittadine che non vengono rimodernate dalla visita di Giovanni Paolo II del 1993. Gli interventi riguarderanno la zona nord, le vie Sciro, Regione Siciliana, Madonna delle Rocche, Matteo Cimarra, Mazzini, tra scarificazione e rifacimento dello strato di usura e ancora livellamento dei tombini, poi ancora in via Piersanti-Mattarella dove si penserà le ringhiere e rete urbani. Sarà anche fatta la bitumatura del viadotto Garibaldi in via Offamilio e San Gregorio, poi la scarificazione e rifacimento dello strato di usura con livellamento dei tombini nella via Alessio di Giovanni-Serra-Ferlicchio-Sicilia. Interventi anche in centro, in Fiero-Odotto, sarà demolito e rifatto il sottofondo stradale in calcestruzzo e lo strato di usura in pastina di quarzo. Sarà rifatto il marciapiedi e verniciate le ringhiere, mentre in via Empedocle è prevista la scarificazione e la bitumatura dello strato di usura. Si andrà anche nella zona sud della città, in via dei Fiumi e Teatro Tenga, via Cremona, Toscana, via Lecannatello, Cavaleri Magazzeni e poi sarà anche messa a mano alla zona ovest a Giardina Gallotti. Saranno sistemate via Belvedere, Trieste, piazzetta Scuole Elementari, la piazzetta principale e ancora interventi anche a Montaperto. Le strade della città anche oggi sono rimaste piene di rifiuti, non solo quelle di Grigento ma anche quelle degli altri 18 comuni appartenenti all'ATOGESA G2 perché gli operatori ecologici sono rimasti con le braccia incrociate. Nino Ravana. Per il sesto giorno consecutivo la spazzatura è rimasta in strada nei comuni dell'ATOGESA per lo sciopero degli operatori ecologici. Mentre ogni notte si contano a decine gli ucenti di cassonezzi stracolmi di rifiuti, il rischio è che la mancata raccolta possa provocare un'emergenza igienico-sanitaria. I Netturbini hanno ribadito che fino a quando non verranno pagati gli stipendi di gennaio e febbraio difficilmente riprenderà il servizio. Per risolvere l'ennesima emergenza rifiuti l'attenzione si sposta alla riunione di lunedì mattina convocata dal liquidatore di GESA Teresa Restivo. All'incontro a cui prenderanno parte i 19 sindaci soci dell'ATOGESA si cercherà di trovare una soluzione alla crisi del comparto. Per scongiurare una Pasqua con i rifiuti la speranza è riposta su un documento da preparare e presentare al presidente della regione Raffaele Lombardo con la richiesta di 5 milioni di euro che permetterà a GESA di pagare imprese e operai. Ma su questo pesa l'incognita del tempo e con l'esigenza di ritrovare una soluzione alternativa immediata. Un aiuto potrebbe arrivare dai sindaci e alcuni di loro hanno già messo mano alle casse comunali. Infatti a lato GESA sono arrivate nuove liquidità da parte di alcuni comuni, Agrigento, Favare e Grotte. Si tratta di somme che il liquidatore Teresa Restivo erogherà le imprese per pagare il saldo della fattura di agosto 2011. Altri 2 milioni di euro dovrebbero arrivare la prossima settimana e anche questi finiranno alle ditte ai lavoratori. Intanto c'è chi come il primo cittadino di Agrigento con una nota inviata alla deputazione regionale del territorio ha chiesto di riottenere la gestione del servizio. Soccupiamo di cronaca nera incastrato da una telecamera nascosta che riprende la consegna di una tangente. Con l'accusa di concussione in manette è finito un militare della Guardia di Finanza Graziano Bianco in servizio alla Polizia Giudiziaria della Procura di Gela. Secondo quanto accertato il giovane finanziere avrebbe chiesto una somma in denaro a un imprenditore licatese minacciandolo in caso si rifiutava di pagare che l'avrebbe perseguitato per reati legati alla legge 488. L'imprenditore in passato avrebbe ricevuto dallo Stato proprio attraverso la legge 488 un aiuto economico a fondo perduto per avviare un'attività lavorativa. La delicata inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Salvatore Velle e dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. Un pensionato Tonino alla Porta, 80 anni, di raffadali è stato trovato morto nelle campagne delle piccola frazione di Giardina Gallotti. A scoprire il cadavere sono stati alcuni vicini che hanno dato l'allarme. Secondo il medico legale il decesso sarebbe stato causato da un improvviso malore. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti della sezione volanti. I carabinieri hanno arrestato tre nomadi abitanti a Castrofilippo per furto aggravato di energia elettrica. Si tratta di Fortunato Antonino Marsala, 51 anni, e dei fratelli Gioachino e Antonio Ragaccio, rispettivamente di 28 e 27 anni. Nel corso di alcuni controlli domiciliari, i militari hanno accertato che i tre nomadi si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica. In attesa del giudizio, Marsala e i due ragaccio sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Deve espiare la pena di 13 mesi di reclusione per un furto commesso a Catania nel mese di ottobre scorso. Si tratta di un minore ospite di una comunità di Ravanusa, arrestato questa mattina dai carabinieri della locale stazione. Il giovane, dopo le formalità di Ritu, è stato accompagnato presso l'Istituto di Detenzione per Minori di Caltanissetta. In linea la regia c'è la pubblicità, vi aspetto subito dopo, non mancate. Qualcuno butta i soldi dalle finestre e ci sono finestre che te li restituiscono. Con gli calzi infissi, i tuoi soldi rientrano dalle finestre. Chiama fino al 31 luglio i migliori infissi alluminio legno per tutto l'appartamento a soli 3.000 euro anziché 5.000 euro. E in più un rimborso di 750 euro, mentre vi godete le nuove finestre. Una promozione imperdibile proposta da chi da 40 anni è leader nel settore per qualità e affidabilità. Li calzi. Più qualità. Più soluzioni per i vostri infissi. HNICAT. Incontrata Andolina. Il Comitato regionale Sicilia Axi, in collaborazione con il Comune di Siculiana, Assessorato Turismo e Culture e la Comunità Ecclesiale, organizza Pasqua 2012 a Siculiana. Domenica 8 aprile, dalle 17 alle 19, incontro dei Santi con il Cristo risorto in Piazza Marino. All'incontro seguirà la messa nel Santuario del Santissimo Crucifisso. Pasqua 2012 a Siculiana. Venite a trovarci! Presto grandi novità. Casa Inn. Con l'occasione. Tutta la merce in esposizione, con sconti fino al 50%. Cucine, divani, camerette. Arrediamo ogni casa pensando prima di tutto a chi la abita. Studiando con professionalità ogni esigenza legata allo spazio e al suo stile di vita. Casa Inn. Unica sede a HNICATI. Accanto all'ospedale. Riprendiamo con la nostra informazione. Quarto appuntamento questa mattina con il parlamentino di Grande Sud. Attenzione concentrata alla costituente del partito di Michele Cimino. Totofrequente. In piena campagna elettorale Grande Sud concentra l'attenzione sui giovani. E lo ha fatto questa mattina riunendo il coordinamento giovanile del partito. Oggi partiamo con l'assemblea costituente dei giovani di Grande Sud per creare nei comuni agrigentini l'assemblea costituente dei coordinamenti cittadini. In modo tale presto da poter poi eleggere il coordinatore provinciale ai giovani con i diversi coordinatori comunali nei comuni. Grande Sud è un partito del territorio e per questo vuole essere presente nel territorio della provincia di Agrigento con i giovani che vogliono intestarsi le battaglie per il loro futuro. Ovviamente lo sguardo è proiettato al contesto elettorale che in provincia vede Grande Sud. In alcuni comuni è alleato con la cosiddetta Grande Coalizione insieme a PD, MPA e Fli. E in altri casi invece come ad Agrigento dentro alleanze differenti. È il caso del sostegno a Totopennica assieme al PDL. La Cimino ribadisce, con gli altri partiti siamo leali e corretti. Non abbiamo preclusioni, tant'è che a Raffadali sosteniamo il candidato di Benedetto a Campobello sosteniamo il candidato Picone ad Agrigento sosteniamo Totopennica che è un candidato che nasce dal territorio che è espressione della società civile ad Agrigentina e a Sciacca sosteniamo Fabrizio Di Paola. Infine Cimino conferma la linea utilizzata da Agrigento nel sostegno a Totopennica mani libere al candidato sindaco per la scelta della squadra. Ritengo che Pendica debba poter fare una cosa sola nominare una squadra di governo che sia di sua fiducia e questa squadra di governo assumersi la responsabilità per 5 anni nella consapevolezza che a Palermo potrà trovare me e a Roma potrà trovare Gianfranco Miccichè e i parlamentari di Grande Sud. Un cantiere di lavoro per rendere esecutivo il piano di sviluppo turistico distrettuale. Sebbene nato da poco meno di un mese il distretto turistico Valle dei Templi ha già preso a lavorare a pieno ritmo e il piano di sviluppo turistico è già una realtà. Ora la sfida è renderlo esecutivo nelle più brave tempo possibile per farlo nel modo più efficace, innovativo e competitivo il distretto si apre alle nuove energie del comparto turistico. Sono messe a bando sette borse di studio da 1.500 euro ciascuna che saranno assegnate alle migliori idee progettuali a titolo di rimborso spese per la redazione dell'esecutivo progettuale delle sette migliori idee. Invitiamo i giovani a confrontarsi con il piano dichiara l'amministratore del distretto, Gaetano Pendolino scegliendo un progetto da integrare, criticare o rendere esecutivo. Per presentare il bando con i contenuti e la tempistica attuativa sono fissate due conferenze stampa la prima lunedì 2 aprile alle 10.30 a Caltanissetta presso la Sala Gialla del Palazzo Comunale la seconda a martedì 3 aprile alle 10.30 ad Agrigento al Palacongressi. Massimo Raso, come detto nei giorni scorsi è stato nominato reggente della CGL Agrigentina vi proponiamo questo stralcio di intervista allo stesso Raso che prossimamente sarà ospite di 30 Minuti Com. C'è qualche punto sul quale magari vuole insistere in provincia di Agrigento? Nel senso è stato segretario organizzativo è stato accanto a Maria Lobello però dice se fossi segretario generale mi occuperei in particolare di questa cosa c'è una cosa che le sta più a cuore rispetto ad altre? Ci sono tante cose questa domanda mi fa sì, perché giustamente sono tante però una cosa secondo me che è la più naturale in effetti perché da noi c'è stata sempre una gestione collegiale delle questioni quindi non c'è diciamo una sorta di retropensiere di sogno nel cassetto da realizzare solo quando uno poi assume ci sono esposti no, perché tutte le scelte che abbiamo assunte in questi anni le abbiamo assunte insieme quindi il vero programma diciamo mio ma anche io mi auguro del segretario qualunque esso sia della CGL è quello di continuare queste cose perché molte di queste cose non basta fare un'iniziativa no me ne viene una in testa noi abbiamo fatto un'iniziativa sull'handicap molto bella e molto partecipata il lavoro va continuato sulla sanità su tante poi c'è la CGL è un mondo complesso perché ci sono le categorie quindi confederazione e categorie insieme categoria per categoria dovranno decidere quali sono le questioni che dobbiamo rilanciare e dobbiamo rilanciare insieme e poi ci sono alcuni aspetti organizzativi che avevamo iniziato con Mario Lobello e che dobbiamo continuare noi abbiamo detto abbiamo fatto un ragionamento la nostra è una grandissima organizzazione noi organizziamo 32.000 persone in provincia del Grigento divise nelle varie categorie eccetera abbiamo tante sedi nella nostra provincia in ogni sede in ogni posto in ogni comune dove c'è la CGL noi dobbiamo fare in modo di costruire un gruppo dirigente locale un gruppo dirigente che è appunto fatto dal Comitato degli Iscritti come da noi si chiama cioè mettere insieme i lavoratori dei vari settori di quel posto e fare in modo che ci sia anche localmente perché finora c'è solo centralmente questa cosa anche localmente un'attivizzazione del gruppo dirigente della CGL locale in merito alla questione del precariato nella nostra provincia sappiamo che il problema se voluto affrontare seriamente deve essere affrontato in primo luogo a livello regionale ed è al nostro segretario regionale Angelo Fullone che abbiamo dato mandato di rappresentarci presso il presidente Lombardo e quanto scrive in una nota Giovanni Farruggia della CIS le funzioni pubbliche di Grigento noi dall'altro canto continua ci muoveremo secondo quanto unitamente deciso nell'esecutivo regionale anche durante l'assemblea di ieri al castello Chiaramontano di Favara abbiamo portato avanti le nostre tesi evidenziando come non si possono strumentalizzare situazioni di tale importanza CGL e Cisleville annunciano uno stato di agitazione dei laboratori precari dell'Agrigentino per la cronaca giudiziaria prima udienza del processo per l'omicidio dell'operaio Sacenze Michele Cangolosi in cui sono imputati Celeste Saieva moglie della vittima Nicola Piazza e Paolo Onaro condannati ciascuno in primo grado a 30 anni di reclusione i dettagli li seguiamo da Nino Ravana punta tutto sulla riapertura del dibattimento per avvalersi di argomenti che potrebbero ribaltare la contanna di primo grado la difesa dei tre imputati ritenuti responsabili dell'omicidio dell'operaio Sacenze Michele Cangolosi alla sbarra per l'efferrato delitto ci sono la moglie Celeste Saieva e due giovani del luogo Nicola Piazza e Paolo Onaro condannati in primo grado a 30 anni di reclusione nel corso della prima udienza davanti alla corte d'appello di Palermo il procuratore generale si è opposto alla richiesta di riapertura del dibattimento sostenendo che le dichiarazioni del minorenne e la quarta persona coinvolta nell'omicidio sono attendibili il ragazzo è stato già condannato dal tribunale dei minori a nove anni e quattro mesi di reclusione con il rito abbreviato una sentenza nel frattempo divenuta definitiva le argomentazioni della difesa puntano al volume della cassa dentro la quale è stato nascosto il corpo di Cangelosi una misura giudicata incompatibile con la statura della vittima inoltre è stato chiesto un altro sopalluogo sul sentiero di campagna percorso dalla macchina che ha trasportato il giovane operaio il giorno della scomparsa una mulattiera che è stata percorsa per raggiungere il fossato e seppellire il saccenze l'utilitaria secondo la difesa non sarebbe stata in grado di effettuare quella strada sterrata specie a pieno carico in modo particolare quanto piove diventa impraticabile specie per un'auto piccola adesso la Corte d'Appello dovrà sciogliere la riserva nell'udienza fissata per il prossimo 27 di aprile si è avvalso della facoltà di non rispondere Antonio Maniscalco il giovane titolare del pub La Scalunata situato nel centro storico di Sciac è comparso ieri per l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Giuseppe Miceli per l'uomo rimane applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari su Maniscalco pesa l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza inglese cliente del suo locale l'indagine è culminata con la misura cautelare presa il via alcuni mesi fa dopo la denuncia presentata alle autorità britanniche dalla presunta vittima della violenza visita il prossimo 10 aprile a Racalmuto del ministro degli interni Anna Maria Cancellieri la responsabile del Viminale darà il benvenuto alla commissione prefettizia che reggerà per 18 mesi le sorti del comune sciolto la settimana scorsa per infiltrazioni mafiose un segnale che porta alto il grado di attenzione dello Stato verso Racalmuto specie dopo che sono uscite le motivazioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale a seguito del gravissimo attentato intimidatorio dei giorni scorsi ai danni di un imprenditore locale altra pausa la materia lascia spazio alle emozioni costanza ceramiche nuova apertura in via Leonardo Sciascia 47 villaggio Mosè a Grigento costanza ceramiche ceramiche and design NC Auto nuovo ed usato di Nuccio Castronovo da NC Auto sono disponibili vetture di tutte le marche usate aziendali o semestrali trattiamo solo auto di provenienza nazionale con finanziamenti personalizzati con prima rata dopo 90 giorni perché comprare nuovo quando puoi acquistare una buona auto aziendale vieni a trovarci con il tuo usato NC Auto l'usato di qualità finalmente è arrivato il nuovo punto vendita all'ingrosso che esce in carri ad Aragona da noi puoi trovare tutto ciò che occorre al tuo negozio articoli per la casa monouso articoli da regalo come Fatigati 2S Creare Italia Bronzo IBC Gicos Innova Star ed ancora i giocattoli come Giochi Preziosi Gig C'è Pirati General Trade Tobias MCSRL Disney Apple Plastic e tante altre aziende ancora il tutto delle migliori marche ed a prezzi imbattibili Cash & Carry è aperto da lunedì al venerdì aperto anche domenica mattina chiuso al sabato Cash & Carry lo trovi ad Aragona via Petrosella numero 75 telefono 329 24 59 239 Prendendo spunto dalle notizie di stampa che riferiscono di un prossimo miglioramento dei servizi di trasporto urbano per le zone di San Leone Cannatello e Villaggio Mosè appare opportuno evidenziare come per rendere concreti i vantaggi per la popolazione è indispensabile fare chiarezza a proposito di orari e percorsi a dirlo è Fabrizio Lagaipa del Comitato di San Leone la confusione continua fra gli utenti infatti regna sovrana spessissimo i viaggiatori attendono in vano autobus inesistenti è evidente che il sistema migliore sarebbe collocare finalmente delle paline con gli orari uno strumento banale ed economico ma estremamente efficace sono i comuni di Villa Franca di Sicilia e Luca Sicula nell'Agrigentino e Calata Fini se gesta a Trapani ad aggiudicarsi il primato della nuova edizione di Comuni Ricicloni per quanto riguarda i capoluoghi di provincia segnano tutti il passo tranne Trapani che ha aumentato in maniera significativa il dato di raccolta differenziata Catania non ha fatto pervenire ai dati sono ormai passati due anni dall'approvazione della riforma del sistema di gestione integrata dei rifiuti e nulla è cambiato anzi dichiara Mimmo Fontana presidente regionale di Lega Ambiente Sicilia il buco creato da Iato si è ulteriormente allargato e a queste strane SPA pubbliche che la legge regionale del 2010 cancellava rimane affidato il compito di garantire la gestione dei rifiuti o almeno così dovrebbe essere ritornano la prosa e Luigi Pirandello al teatro a Grigiantino da ieri fino a domani questa sera si recita a soggetto vediamo una rinomata opera del drammaturgo Grigiantino in scena da ieri e fino a domani al teatro Pirandello Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini sono i protagonisti di questa sera si recita a soggetto l'opera che debutò con successo la prima volta nel 1930 a Berlino ha conservato nel tempo caratteristiche capaci di coinvolgere il pubblico tutto il teatro recita scriveva entusiasta Pirandello dopo aver assistito alla prima tedesca ed infatti con un gioco di equilibrismi dove anche luci, palchi, platessi, pari o hanno un ruolo si svella la complessa macchina dell'interpretazione che rende partecipe gli spettatori ridete della vostra ignoranza no no signora mia lasci andiamo al teatro questa sera lo spettacolo è alle 20 e 30 mentre domani alle 17 è l'organizzazione della fondazione Teatro Luigi Pirandello di Egrigento e il nostro povero signor Palmino e questa mattina i giovani studenti del liceo politi di Egrigento hanno incontrato gli attori della rappresentazione teatrale le interviste sono di Sofia Dinolfo Oggi il politi incontra gli attori della compagnia teatrale Molière con quale obiettivo? L'obiettivo del liceo politi è quello di sensibilizzare gli alunni al teatro cioè la conoscenza profonda del teatro degli autori ma anche degli attori cioè di coloro che agiscono praticamente sul palcoscenico e noi del politi abbiamo già da due anni effettuato un progetto appunto progetto teatro cinema grazie al quale incontriamo registi autori e attori e sensibilizzando appunto i ragazzi che si emozionano nel venire a teatro infatti ieri sera eravamo tutti qui ad applaudire questa splendida compagnia e ad applaudire particolarmente secondo me il nostro conterraneo Luigi Pirandello che molte volte non è conosciuto abbastanza per un attore teatrale quanto è importante il rapporto con il pubblico in questo caso con i giovani sicuramente fondamentale col pubblico in genere poi con i giovani in particolare che saranno chiaramente il pubblico di domani insomma oggi specialmente c'è questo grosso problema di far capire ai giovani quanto sia innanzitutto importante il teatro per la crescita della persona non soltanto dal punto di vista culturale proprio dal punto di vista anche di presa di coscienza delle cose che poi è cultura anche quella per l'amor di Dio ma anche anche fargli capire il fascino di questa forma d'arte che è un fascino del tutto unico perché se uno va a riflettere l'unica forma d'arte dove si trovano di fronte due persone in scambio reciproco costante cioè lo spettatore e l'attore bastano queste due persone diventa immediatamente teatro sono tantissime le iniziative che facciamo a favore dei giovani vogliamo un teatro che costituisca per i giovani un momento importante per la loro crescita culturale perché studiare i testi e poi non avere questo contatto diretto con le scene per me significa dimezzare quella che è la loro poi vera cultura e allora sì molti giovani ormai vengono a teatro abbiamo delle tariffe agevolatissime proprio per incentivare i giovani delle scuole superiori e pure gli universitari a venire a teatro e molti rispondono a questo nostro appello i riti della settimana santa rappresentano i momenti più significativi della vita di Gesù Cristo descritta nei Vangeli soprattutto è il periodo in cui si festeggia il mistero pasquale di Cristo la sua passione morte e risurrezione anche Siculiana si prepara all'evento che è organizzato dalla comunità eccrisiale dalle consorelle Adolorata Maria dalla confraternita Eceomo con la collaborazione del comitato provinciale a CSI di Egerigento preseduto da Giuseppe Balsano coinvolgendo l'intera comunità nel solco della fede e della tradizione i riti della settimana santa avranno inizio domani domenica delle palme alle 10.30 in piazza Piano per ricordare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione delle palme dei ramoscelli di Olivo essi concluderanno domenica prossima in occasione della festa di Pasqua con il tradizionale appuntamento con l'incontro dei Santi una particolare processione durante la quale verrà riproposto tra folclore e tradizione l'annuncio di San Michele Arcangelo a San Giovanni Santa Maria Maddalena San Pietro ed infine alla Madonna della venuta risurrezione di Gesù l'associazione Corrivò mette in scena la passione di Cristo come ogni anno ormai da più di 10 i giovani componenti dell'associazione culturale e teatrale mettono in scena la passione di Cristo attraverso una rappresentazione dal titolo Iesus seguiamo questa intervista realizzata da Sofia Dinolfo l'associazione Corrivò rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il Resital Iesus sì ormai da più di 10 anni che portiamo avanti questo Resital in varie strutture in varie chiese in tutta la provincia abbiamo cominciato nel 1997 oggi continuiamo ancora con lo stesso Resital ambiando ogni anno comunque le scene e i personaggi di cosa parlate nello specifico in questo Resital quali scene possiamo vedere? naturalmente parla della passione di Cristo comincia dal discorso delle montagne quindi dalle beatitudini passa poi per il processo d'Anticaifa il processo d'Antipilato la crocifissione la resurrezione naturalmente siamo circa 20 personaggi con più i tecnici di scena che partecipano a questo Resital gli appuntamenti quali saranno? gli appuntamenti a partire da questa sera nel santuario della Dorata qui all'Agrigento domani domenica quindi siamo a Caltabellotta nella chiesa di Sant'Agostino lunedì saremo alla chiesa madre di Castrofilippo martedì nella chiesa del villaggio Mosè Santa Rosa e mercoledì concludiamo nella chiesa del Purgatorio qui all'Agrigento domani 1 aprile dalle 9 alle 14 in piazza Don Giustino a Favara verranno vendute le uova di Pasqua dell'Ail anche quest'anno infatti si rinnova l'importante appuntamento di solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie l'infome e il mieloma la 19esima edizione della manifestazione Uova di Pasqua Ail posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica è realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari che offriranno un uovo di cioccolato a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro le uova di Pasqua dell'Ail sono sempre caratterizzate dal logo della stessa associazione adesso lo sport proseguirà fino a domani sul campo del Verdura Golf Resort di Roccofort il Sicilian Open molti campioni protagonisti di questo evento sportivo Giuseppe Pantano Soltanto due gli italiani rimasti in gara dopo la seconda giornata del Sicilian Open di Golf sui campi del Verdura Resort di Sciacca sono Alessandro Tavini 14esimo con 138 colpi e Andrea Maestroni 42esimo con 140 eliminato l'attesissimo Matteo Manassero il campione veronese non ha passato il taglio per lui il torneo dell'European Tour dunque è già finito sono in campo invece per un'altra giornata i primi 65 classificati il torneo si concluderà domani tra gli ospiti un grande appassionato di golf l'ex calciatore ed attuale allenatore Gianfranco Zola si grande è appassionato un morbo che ho un virus che ho preso in Inghilterra e comunque coltivo ancora è molto bello come ha trovato i campi di Sciacca? bellissimo devo dire che il campo è in grandissime condizioni il disegno è bellissimo ma tutto il complesso qua è molto bello devo dire che è stata fatta una grandissima cosa l'acragas è un nuovo calciatore che va a sostituire l'infortunato Peppe Nobile si tratta del centrocampista campano Marco Borelli che è arrivato ad Agrigento accompagnato allo stadio del DS Dottor Sciortino e dal DG Silvio Alessi Borelli 30 anni a giugno ha giocato in passato in serie di Ischia Isola a vedere e quest'anno era in forza con una squadra di eccellenza con la quale ha truncato il rapporto nello scorso mese di dicembre in passato è stato anche compagno di squadra di Gennaro Marasco nella tarda ad arrivare non tarda ad arrivare una notizia che è ragionellaria ovvero il provvedimento che impedisce la vendita dei tagliandi relativi all'incontro tra Messina e Licata e residenti nella provincia di Agrigento e la conseguente chiusura del settore riservato alle tifoserie ospiti il prefetto di Messina ha emanato l'ordinanza di conseguenza al derby sarà presente sugli spalti esclusivamente la tifoseria locale il derby del San Filippo sarà diretto da Fabio Gellere di Parma in eccellenza tutto fermo per un paio di settimane ma non profiteranno alcune squadre per giocare in amichevole il caso delle San Giovanni Gemini che all'Obue ospiterà l'Aragona di Marco Aprile si giocano regolarmente questa domenica le gare di prima categoria che prevedono diversi scontri molto interessanti al Collura di Porto Empeducle atteso il match tra la locale Accademia e la Libertas Racalmuto dell'ex Raimondo Filippazzo mentre all'Esseneto il nuovo Villa 7 ospiterà il Virtus Vivona altro derby di grande interesse in programma alicata tra il Sant'Angelo ed il Canicatì 1928 dove sono in palio punti importanti per il consolidamento della seconda poltrona in favore della compagine locale a Racalmuto lo Sporting segue una vittoria di prestigio con il neopromosso Serra di Falco mentre a Castel Termini si rinnova il derby dei dirimpetai tra il Castel Termini e il Mussumeli infine sarà derby tutto unisseno tra l'atletico Caltanissetta ed il Milena ecco lo sport concludiamo questa edizione del nostro TG grazie come sempre per aver seguito l'informazione di Agrigento TV buon pomeriggio buon proseguimento di giornata e buon fine settimana arrivederci un cordiale saluto dal centro meteo siciliano si prospetta un weekend di sole su tutta la nostra regione si allontana infatti il debole sterile sistema nuvoloso che all'ambito le coste meridionali della nostra regione e torna il sereno su tutta la Sicilia ci attende una giornata soleggiata su tutta la regione i venti saranno deboli meridionali salvo qualche rinforzo sul Trapanese i mari da quasi calmi a poco mossi le temperature permarranno stazionarie bene per il momento è tutto dal centro meteo siciliano vi giungo l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie a tutti